La rassegna in corso a Rio de Janeiro in Brasilia è la non edizione dell'Aid Defense and Security, la più importante fila del settore dell'America Latina. All'evento ci sarà anche il nostro paese con un'importante rappresentanza istituzionale e imprenditoriale. Quest'ultima è coordinata dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'azienda italiana, con un sostegno della nostra ambasciata a Brasiglia e nel Consolato Generale a Rio. In particolare è stato predisposto uno stand dell'Agenzia Spaziale Italiana, in cui verrà esposto tra gli altri un modello del Vega, il rilanciatore concepito e prevalentemente realizzato in Italia, il cui secondo lancio dovrebbe avvenire proprio in concomitanza con la rassegna brasiliana. Oltre allo stand dell'ASE ci saranno anche quello del Ministero della Difesa e della Federazione dell'Azienda Italiana dell'AIA. Per l'evento c'è grande attesa, soprattutto dopo gli importanti numeri che l'ultima edizione ha registrato. Sono state presente nel corso della rassegna a source 663 aziende provenienti da 40 paesi del mondo. La rassegna ha ospitato 63 delegazioni ufficiali estere ed è stata visitata da 25.800 cittadini, espositori, tecnici, operatori e appassionati del volo. Grazie